bella raga bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale oggi andremo a fare il beige dell'fbi allora ragazzi requisiti di fare questo che dice semplice semplice ci serve solo la sala giochi dovremmo avere il colpo da fare ma quello in modalità aggressivo quindi a questo punto dobbiamo fare la missione contenuti del cavo ragazzi è fondamentale se non fate questa missione non funzionerà poi il tutto quindi fate contenuti del cavo e scegliete il colpo aggressivo se non potete farlo perché l'avete già fatto eccetera eccetera dovete prima completare gli altri per poi rifare aggressivo a questo punto una volta che abbiamo fatto queste due cose ragazzi ci sbloccherà una seconda lavagna qui a destra quindi andiamo e ci interagiamo a questo punto dovremmo selezionare i vari operatori andiamo su hacker e ci mettiamo page o come cazzo chiam a questo punto raga una volta selezionata lei ci darà la missione di lester sotto e il gioco praticamente è fatto perché con quella missione metteremo il beige delle fbi su tutti gli outfit raga è assurdo quindi avviamo questa missione e una volta che siamo all'interno della missione saremo con questo outfit adesso dobbiamo aprire il nostro menu di pausa vedere dov'è la munition più vicino raga e noi dovremo andare proprio lì intanto lasciate un like lasciate un commento se vi piacciono i miei video ragazzi iscrivetevi e attivate la campanellina per essere aggiornati e una volta che siamo arrivati qua raga da ammunition interagiamo con la parte destra dove ci sono i maioni appesi e andiamo a selezionarci l'outfit dove vogliamo il beige delle fbi a questo punto andiamo e facciamo una parte di missione ragazzi ci dirigiamo dove c'è la meta dal punto giallo e una volta che siamo arrivati lì raga se siete con l'oppressor fate il devasto e facile e veloce uccidete tutti questi cacacazzi a questo punto una volta che abbiamo ucciso tutti quanti dovremo andare proprio lì e dovremo prendere il beige dalla gente dell'fbi intanto raga guardate che scena assurda che mi sono cuccato non ho mai visto un merge del genere fatemi sapere nei commenti se anche voi avete visto dei merge assurdi come questo quindi a questo punto raga sbada bam abbiamo il nostro beige e adesso lo andiamo a salvare e torniamo dalla munition più vicino a noi ragazzi e una volta che saremo arrivati da ammunition indovinate cosa dobbiamo fare dirigerci dai maioni qui dalla parte destra così andremo sui completi clicchiamo una volta x o quadrato se giocate da ps raga che andiamo sugli outfit e andiamo a sovrascrivere a salvare sul nostro outfit in questa maniera avremo salvato il beige adesso ragazzi se volete continuare a fare questo beige sugli altri outfit semplicemente aprite il menu di pausa e cambiate lobby non finirà la missione e quindi la potrete rifare e a questo punto metteremo il beige su tutti quanti gli outfit adesso ragazzi che dire lasciate un like lasciate un commento se vi è piaciuto il video iscrivetevi attivate la campanella che è importante così posso rompere le bolse quando pubblico qualcosa e alla prossima bella raga a si vuoi supportarmi la grandissima ci sono gli abbonamenti bella bella ciao a tutti ciao a tutti Grazie per la visione!